Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video dedicato ai saluti e ad anche a qualcos'altro quindi passiamo subito salutando a Giovanni Del Gaudio che mi dice come farei senza di te, ragazzi come farei io senza di voi salutiamo Cristian Bulgari, grazie al grande lavoro bellissimo dei video e complimenti, grazie a te di seguirmi Cristian salutiamo anche lo staff di Solo Glitch, grande Maxi sempre il numero uno, ragazzi io vi ringrazio veramente salutiamo anche Alex6309 il pro, Maxi sei un genio, non sono un genio ragazzi, io i Glitch li vedo in giro salutiamo Antimo Yannotta che con sto ciao Maxi ci ha proprio rotto e io gli dico Antimo ciao salutiamo Gali che mi ha detto come faccio a colpirti con un commento sono Gali mica cupito e va bene comunque eccolo qui il tuo commento salutiamo Gabriele King, bella chicco mi saluti chi non si iscrive pulsa di kebab anche se il kebab è buono quindi va bene salutiamo Frenesi, grande Maxi continua così arriverai al top magari Frenesi, magari poi salutiamo Master Magic che qui mi dice che sono stato modesto, no Master Magic la mia non è modesti a essere solamente corretti salutiamo Melody, anche lei che mi ringrazia per questo per l'ultimo glitch che è stato facile facile e quindi nulla ragazzi, continuate a commentare se volete essere salutati in un mio video penso di fare una serie dedicata solamente ai saluti ragazzi, ai vostri commenti più belli e qui niente, qui non sto facendo un cazzo praticamente, stavo cazzeggiando, ho duplicato aerei nella mia base operativa all'infinito fino ad avere un risultato che vedrete alla fine del video ragazzi comunque lo scopo del video in sé, a parte i saluti, era un altro allora io ieri ho fatto una live dove aiutavo un po' tutte le persone a dare dei veicoli allora ragazzi, il punto è questo, quando io vado a fare delle live per aiutare delle persone, per dare dei veicoli mi aspetto magari un minimo che voi sappiate di che cosa sto parlando ieri in live mi sono capitate delle persone che non conoscevano neanche il glitch e pretendevano che io glielo spiegassi sul momento cosa che secondo me non è una buona cosa, magari un pochino di rispetto per me che vi sto cercando di aiutare, vi sto regalando un'auto e cazzate varie insomma quindi magari un pochino di rispetto sarebbe gratuito nei miei confronti anche perché io lo faccio volentieri ragazzi vedete che casino che ho creato e ora faccio pure peggio lo faccio volentieri ragazzi, però anche voi dovete essere bravi iscritti e venire incontro alle mie esigenze anche perché fare una live di due ore e mezza ragazzi quando si arriva alla fine della live avete il cervello spappolato io non lo so chi di voi fa live di due ore e mezza stare lì a regalare cose o comunque con gli iscritti magari si può fare una live di due ore e mezza con le gare comunque sia già va bene però stare qui a fare dei glitch insieme a voi fidatevi ragazzi che due ore e mezza vi spappola il cervello e alla fine della live magari mi capita anche di non ricordare quindi mi dispiace se qualcuno se l'è presa perché non mi sono ricordato di chiamarli alla fine della live o perché non li ho passati vedi vedete che è successo ragazzi a forza di smanacciare ho fatto crashare l'applicazione ragazzi quindi niente, mi raccomando ragazzi siate un po' più presenti sul canale se volete essere salutati commentate lasciatemi un bel commento detto questo un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti